Allora, comunque hai ragione, non so chi che ha detto. Gemini e Garfagna, prima statiste, poi le ballerine ad arcore, dai su, lascia stare. Gemini e Garfagna sono due riviste, sono due che hanno usato loro il proprio corpo per fare carriera, le solite, le solite. Non credo che l'altra sia da meno, com'è che si chiama, anche l'altra gestiva tutto il fantasy di Berlusconi, eh. Ci hanno provato un po' tutte, la... Tutto sexy fantasy, però voglio dire, allora almeno quell'altra è stata la Rosulli, però almeno lei è stata riconoscente. Poi si è beccata, Rosulli sperava di fare l'amante di Silvio, ma Silvio ne ha trovato delle altre e te ne trova finché ne vuoi. Ti ha provato anche con Belen, Silvio. Silvio sa come si fa, basta che paga. E quindi voglio dire, alla fine facevano tutte parte dell'arm di Silvio e queste sono delle bast... delle traditrici. traditrici che poi non hanno fatto nulla per il paese, perché avessero fatto qualcosa. Hanno solo usato i tacchi a spillo e la minigonna e le calze d'autore genti per fare un po' di spot e basta.